Ciao a tutti, io sono Sara, sono un'operatrice della medicina. Fin da piccola avevo il desiderio di lavorare in ambito sanitario e così ci sono riuscita. Ho svolto la scuola che mi ha portato appunto a svolgere il corso OSS. E finita appunto la scuola, ho lavorato in ambito territoriale, ho lavorato in casa di riposo e adesso sono qui in ospedale. E dopo appunto tutti questi anni ho deciso di iscrivermi alla facoltà di infermieristica a Feltre. E nonostante sia una facoltà impegnativa, soprattutto per uno che lavora, sono soddisfatta. E proprio perché appunto mi porterà a svolgere il lavoro che ho sempre desiderato fare. E quindi mi sono iscritta appunto per ampliare le mie conoscenze sia a livello teorico che nel concreto. E appunto avere altre possibilità di sbocchi lavorativi e fare diciamo fare più esperienze insomma.